Gli soli mettiamo per terra 80-100 stampi, poi in questo periodo qui non è che ce ne vogliono tanti. Ora ci mettiamo dentro al capanno cominciamo a vedere se se ne avete qualcuno in giro speriamo che il signor ci aiuti che volano e portarle qui se volano le portiamo qui non c'è nessun problema Allora Franco abbiamo sistemato i richiami, abbiamo sistemato gli stampi, abbiamo sistemato la girandola, il capanno sta abbastanza bene, ci vuole la materia prima. Ecco adesso che facciamo cosa succede? Adesso ci mettiamo dentro facciamo girare la girandola e aspettiamo. Ecco un'altra gira, non? Cosa dire? Cosa dire? Cosa dire? Cosa dire? Questa è bella eh. Questa è bella. No, ma alla fine ce l'ha. La prima pevolcella l'abbiamo fatta. I generi di conforto sono arrivati. Eccoli qua. Chi è già? Ecco il conforto di Bruno. No, il conforto mio è la passione mia e la mazza fegato. Mazza fegato. E' calato eh. E' miglia, posso girare? Si, si. E' ancora... E' andiamo! E va bene. Eh, va bene, oggi va bene, meno male. Ecco Bruno. Benvenuto al caperma. Mi chiamo a giù. Grazie. Butta, butta, butta. Butta, butta, butta quell'altra. Ed è, ecco qua. Ed è quella. Ed è due. 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 Ed è due.